Benvenuto a preposizioni di tempo. Welcome to prepositions of time. When we are talking about time, we use prepositions, so let's learn them. A mezzogiorno. A mezzanotte. A luna. Alle due. Di mattina. Di pomeriggio. Di sera. Mi faccio la doccia di mattina. Lui va al lavoro alle sette trenta di mattina. We can now use prepositions of time. Diuteronomio. I'll— Di vera. Grazie a tutti.